boom a tutti ragazzi buon lunedì buon inizio settimana oggi qui se sentire questo rumore perché sta venendo veramente giù de tutto de tutto allora partiamo dalle cose doverose è stata una settimana di merda veramente veramente brutta tutti sappiamo quello che è successo io ho preferito anzi in questi casi io preferisco il silenzio perché è giusto così perché davide era un ragazzo silenzioso umile non come tanti altri e quindi mi sembra giusto celebrarlo in modo silenzioso quindi non ho fatto video non ho tanto seguito e quindi neanche che mi possa attaccare alle visualizzazioni non mi interessa non mi interessa non l'avrei fatto neanche se avessi avuto 500.000 iscritti non l'avrei fatto non l'avrei fatto purtroppo in questi casi è meglio non dire nulla perché si sbaglia sempre a parlare io mando solo un grandissimo bacio purtroppo virtuale a francesca la moglie a vittoria la figlia di davide che non so quello che staranno passando ma vabbè comunque passiamo ad altro ieri c'è stata inter napoli 0 a 0 partita che sulla carta era abbastanza difficile l'inter con le grandi continua a non deludere perché comunque un punto con napoli è sempre un punto con napoli però però abbiamo visto un inter che comunque contro le big reagisce ma perché contro le altre squadre dette cosiddette piccole non lo fa gioca male ieri per fortuna per fortuna forse spalletti si è accorto che il 4 4 2 con i cardi che non ha toccato un pallone non ha toccato un pallone abbiamo giocato in 9 perché anche perisic veramente orribile orribile quando ha fatto entrare le terre abbiamo giocato il 4 4 2 e l'inter ha iniziato a ingranare molto di più molto di più molto di loro non è che hanno fatto un bel gioco cioè alla fine screen è veramente ragazzi un muro pazzesco pazzesco sia su mertens che su insegne veramente contrasti anticipi una bestia veramente forte forte ragazzo assurdo veramente assurdo speriamo che resti più tempo possibile da noi perché se non lo fa sarà un enorme plus valenza un enorme plus valenza guardando i prezzi che ci sono in giro sarà un enorme plus valenza per quanto riguarda i nostri singoli giocatori a partire da quel numero 9 partita da 3 3 e mezzo dai siamo buoni ragazzi ma ve ne rendete conto non c'è in campo non c'è non c'è in campo culibali con tutto che ha fatto un'ottima prestazione un'ottima partita ma la difesa del napoli ma quando l'ha visto i cardi quando l'ha visto c'è ragazzi non lo lo so io spero che voi vediate ciò che vedo io cioè fatemelo sapere perché posso essere pure io un pazzo di gino ma come fai a di queste cose cioè probabile è probabile tutti sbagliamo però io sinceramente i cardi non l'ho visto Perisic idem sono ormai tre mesi che non gioca dopo la triuletta col chievo non c'è più non c'è più che andreva che andreva che andreva Gagliardini bella partita Gagliardini bella partita anche Brozvic che gioca una partita buona ogni 15 partite ogni 15 partite diciamo ogni 15 partite Brozvic Gli si apre la lampadina e inizia a giocare a calcio non dico che abbia fatto una prestazione da Modric però inizia a giocare quella bc del gioco del calcio Caramo ha giocato poco ed è abbastanza impreciso anche lui come del resto tutti perché cioè se farsi quando fai una ripartenza non puoi non puoi sbagliare i passaggi cioè è proprio l'apice della ripartenza se mi fai il passaggio giusto mandi i giocatori in porta e questo non è successo Miranda ha le sue giocate ogni tanto svirgola Miranda non si sa che c'ha screener l'abbiamo già detto pazzesco Cancelo alterna giocate fenomenali a giocate che dici ma che sta a fare questo vabbè comunque tutto sommato ha giocato una gran partita D'Ambrosio si è visto poco D'Ambrosio si è visto poco e Borca Valerio è entrato propositivo Borca Valerio è entrato propositivo Spalletti Spalletti dopo la conferenza Spalletti dopo la conferenza Spalletti dopo la conferenza ragazzi c'è ha palesemente detto che famo schifo leggendo tra le righe ha detto che famo schifo io condivido tutto quello che dice Spalletti lo condivido il problema è che Luciano mio andava detto prima andava detto prima quindi o tu già ci stai preannunciando che a fine campionato te ne vai o ci stai dicendo che se ne andrà qualcun altro che occupa da troppo tempo il posto in dirigenza uno magari pelato come te ok io presumo sia più la prima opzione però spero più nella seconda ovviamente va bene ragazzi detto questo io faccio ancora le mie condoglianze alla famiglia storie mando un bacio a Davide che ci guarda da lassù noi ci vediamo nel prossimo video continuate continuate ad iscrivervi al canale mi raccomando seguite solamente il credo seguite il credo perché è solamente uno e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao